L'aspettativa di rappresentare al presidente della regione toscana Enrico Rossi le stanze della popolazione, contraria al progetto gasificatore di KME, si è infranta a Fornaci nell'assenza di Rossi, per il quale era già pronta una lettera della libellula che adesso verrà successivamente consegnata. La libellula ed anche il gruppo no al piro gasificatore hanno comunque organizzato un presidio con una quarantina di persone. Per ribadire le ragioni del no al progetto, un no che certo non va contro all'economia circolare di cui si è parlato nel convegno di KME, che però per gli attivisti non può in alcun modo sposarsi con il progetto Piro. Siamo qui per sottolineare che l'inceneritore non rientra nell'economia circolare. Noi siamo per dire sì all'economia circolare, a questa accademia che verrà creata e che viene lanciata oggi, però non vogliamo assolutamente che si pensi che all'interno di questo progetto di economia circolare possa rientrare l'inceneritore KME, perché l'inceneritore, questo inceneritore in particolare, è in contrasto con i principi generali dell'economia circolare. L'economia circolare è una cosa, quello che viene proposto da KME è un'altra. Cercheremo con tutti i nostri mezzi di contrastare quello che ci viene proposto. La nostra vuole essere semplicemente un sì all'economia circolare, nel senso benvengano cose di questo genere, scuola di Sant'Anna per portare nuova gente a studiare in questo ambito, però no all'inceneritore perché non vogliamo, teniamo la nostra salute.